Bentornati amici, un saluto da Luigi Duchi. Oggi torneremo ad occuparci di Home Assistant. Lo faremo con la nostra rubrica riguardante le guide di Home Assistant, molto apprezzata da chi inizia proprio in questo periodo ad approcciarsi a questo fantastico hub domestico. Nella precedente guida avevamo visto vari componenti aggiuntivi, l'integrazione di vari componenti aggiuntivi molto importanti e proseguiremo anche oggi ad integrare componenti aggiuntivi. Lo faremo con due componenti aggiuntivi molto molto importanti. Il primo della quale è MQTT. Sentiamo molto spesso parlare di questo MQTT, ma che cos'è MQTT? MQTT è un protocollo di comunicazione che permette la comunicazione fra un broker, che dopo vedremo come installare in Home Assistant, e vari client che permettono lo scambio di dati, sia in ricezione che in trasmissione fra i due, quindi fra il broker e il client. E la particolarità di questo protocollo di comunicazione è che, oltre ad utilizzare veramente pochissimi dati per la trasmissione, proprio per questo ho scelto come uno dei protocolli di comunicazione più importanti per quanto riguarda la domotica e anche altri tipi di comunicazione, ma soprattutto avviene il tutto in rete locale, quindi non è necessaria la connessione a internet, quindi ciò rende possibile la comunicazione fra il broker, che in questo caso sarà installato su Home Assistant, e i vari dispositivi proprio all'interno della propria rete, anche in caso che internet vada a cadere. Molti dispositivi presenti in commercio presentano la possibilità di avere la comunicazione MQTT integrata nel firmware nativo, ad esempio tutta la famiglia Shelly permette questa tipologia di comunicazione, altri device invece richiedono la sostituzione del firmware con firmware alternativi e di conseguenza poi si potrà abilitare la comunicazione con MQTT di conseguenza, direttamente con Home Assistant senza andare a passare da vari cloud proprietari e via discorrendo. Benissimo, oltre a questo andremo a vedere anche DAC DNS. Che cos'è DAC DNS? È un DDNS, acronimo di Dynamic Domain Name System, se non ricordo male, sì, mi sembra proprio di sì. Quindi, come ve lo posso spiegare, in poche parole permette ad un normale DNS di essere sempre associato all'indirizzo IP, anche nel caso che questo cambi, ad esempio mi viene in mente che molte persone hanno una connessione con indirizzo IP pubblico ma dinamico, di conseguenza ogni tot il proprio indirizzo pubblico cambia, e sarebbe impossibile raggiungere dall'esterno la propria installazione di Home Assistant perché avrebbe un IP completamente diverso, un IP pubblico ovviamente completamente diverso e quindi da fuori della nostra rete non sarebbe possibile raggiungerlo. Si risolve il problema con un DDNS, in questo caso DAC DNS, che ci permetterà di connettersi alla propria istanza di Home Assistant anche da fuori la propria rete, quindi anche quando siete magari sotto connessione 4G oppure siete a casa di qualcun altro, sotto la connessione Wi-Fi di qualcun altro o in un ufficio, insomma, dappertutto potrete raggiungere la vostra interfaccia di Home Assistant e di conseguenza andarla a gestire, comandare, creare automazioni e via discorrendo. Quindi non perderei altro tempo con altre descrizioni molto sommarie e mi regherei sul Home Assistant che ho creato per voi di test e andrei ad installare proprio questi due componenti aggiuntivi. Ed eccoci qua sulla schermata principale del mio Home Assistant di test che utilizzo proprio per questa tipologia di guide. Nel frattempo io non vi ho detto niente ma per comodità ho levato il Raspberry Pi sulla quale avevo installato questo Home Assistant e l'ho spostato su Proxmox che è un virtualizzatore, un sistema operativo che permette di virtualizzare delle macchine virtuali appunto in parallelo alla mia installazione di Home Assistant. Un giorno andremo a vedere anche questa tipologia di installazione perché è l'installazione che io prediligo perché richiede ovviamente un hardware un pochino più prestante ma in un click si distrugge e la macchina virtuale si ricrea. È molto più semplice, non ci sono possibilità di danneggiamento, si può fare dei backup della macchina stessa oltre agli snapshot di Home Assistant. E quindi ho già in passato tirato fuori una guida riguardante proprio Proxmox ma sicuramente la inserirò in questo nuovo contesto più avanti quando magari avremo un po' più padronanza di Asos. e adesso andiamo a vedere come installare i componenti aggiuntivi di oggi. Quindi torniamo nuovamente su configurazioni, componenti aggiuntivi. Nella raccolta dei componenti aggiuntivi non vi dovete preoccupare perché Mosquito Broker, che è appunto il broker MQTT, è proprio uno di quelli nativi quindi sarà semplicissimo. Andate ad installarlo e prima di avviarlo, come di consueto, dovrete andare sulla casella Watchdog da spuntare spuntatela così e andate su configurazione questo è il file di configurazione dovete inserire una username e una password e lo dovete fare qui sotto la voce login quindi cancellate le due parentesi quadre e inserite ho messo una riga di troppo, anzi due username e password ovviamente username mettete quello che volete e password uguale io ho messo una classica username di test e anche una password molto semplice ma cercate di farla un po' più complessa anche se è vero che MQTT verrà utilizzato in locale comunque inserite una username e una password piuttosto completa un ultimo passaggio che possiamo eventualmente fare è aggiungere la voce anonymous false ecco qua in modo da indicare al broker MQTT che non è possibile fare delle comunicazioni al broker in maniera anonima ma sarà necessario sempre che il topic sia utilizzi la username e la password questo poi lo vedremo in futuro ma adesso vi basti sapere che per configurare il broker bastano questi semplici passaggi quindi cliccate su salva e una volta che avete salvato dovete cliccare su avvia attendete un attimo che il componente aggiuntivo si sia avviato e questa volta per questo componente aggiuntivo richiede anche un'integrazione quindi andiamo su configurazioni la seconda voce dispositivi e servizi sotto vedete che c'è integrazioni e noterete che ha rilevato in automatico una nuova configurazione da effettuare per questa integrazione MQTT semplicemente cliccate su configura broker MQTT tramite il componente aggiuntivo di Home Assistant vuoi configurare Home Assistant per connettersi al broker MQTT fornito dal componente aggiuntivo Mosquito Broker ovviamente sì quindi cliccate su invia e la configurazione è creata allora adesso che abbiamo installato MQTT e che quindi lo troverete su configurazioni componenti aggiuntivi insieme a file editor, samba share, terminale, ssh che avevamo visto l'altra volta dovremo andare a configurare DAC DNS per configurare questo componente aggiuntivo che vi ricordo ci permetterà di accedere alla nostra configurazione anzi alla nostra istanza di Home Assistant anche fuori dalla nostra rete dovrete andare sulla pagina ufficiale di DAC DNS che troverete semplicemente digitando DAC DNS su Google esiste solo quella quindi non vi potrete sbagliare create un account meglio se con il vostro account Google e successivamente prendete nota del token copiate proprio questo codice segnatelo, incollatelo da qualche parte ci servirà dopo alla voce dominio qua andate a creare un dominio di vostro piacimento test oaf blog caputo add domain eccolo qua mi ha creato il dominio quindi prendete nota del nome del dominio e il token e spostiamoci nuovamente su Home Assistant ecco una volta tornati su Home Assistant intanto andate ovviamente in configurazioni per raggiungere la pagina dei componenti aggiuntivi ormai avete imparato come arrivare a questa pagina quindi è inutile che lo spieghi ogni volta cliccate su raccolta dei componenti aggiuntivi e qua vedete DAC DNS cliccateci sopra e andate ad installarlo ecco qua avviate Watchdog questo lo dovrete fare praticamente in ogni componente aggiuntivo e cliccate su configurazione allora qui dovrete fare alcune modifiche innanzitutto Let's Encrypt Accet Term mettete True invece di False che volete dire che accettate i termini e le condizioni di Let's Encrypt poi 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 dovrete inserire il vostro token quello che avete ricavato dalla pagina principale di DAC DNS quello che vi avevo fatto copiare incollatelo direttamente qui io ora ovviamente per test metto un nome a caso ma qui andrà il codice del vostro token ed infine su dominio dovrete andare ad inserire il dominio di DAC DNS che nel mio caso era test blog boh caputo non mi ricordo sinceramente ma tanto poi dopo lo modificherò punto DAC DNS questa parte è identica anche per voi punto org ecco qua adesso abbiamo compilato tutto quanto quello che ci serve quindi andiamo a salvare ecco adesso che avrete salvato la configurazione di DAC DNS non vi rimane che avviare il componente aggiuntivo attendete qualche istante e poi andate in registro sempre del componente DAC DNS sta chiedendo l'autorizzazione vediamo un po' ok se è uscito così con Dawn alla fine il tutto è andato a buon fine ora 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 vi rimane da fare un'operazione che non dovrete fare su Home Assistant e in questo caso non ve la farò vedere perché cambia da utente a utente infatti vi dovrete recare sul vostro router e aprire la porta 8123 al indirizzo IP corrispondente al vostro Home Assistant nel mio caso 192.168.1.80 andrò a aprire la porta in TCP quindi 8123 esterna su 8123 interna una volta fatta questa operazione ci dovremmo spostare nel configuration.yaml come facciamo a spostarci? l'abbiamo visto l'altra volta con file editor quindi cliccate su file editor attendete che si apra e ora io sono già su configuration.yaml ma comunque se non fosse così cliccate il simbolo della scusate ve lo faccio rivedere il simbolo della cartella in alto a sinistra e cercate il file configuration.yaml eccolo qua ecco appena entrati in configuration.yaml andate a fare una bellissima cosa innanzitutto commentiamo un pochino il codice a me piace sempre commentare il codice in modo che poi quando lo vado a ricercare mi risulta più semplice trovare i vari passaggi i vari parametri questa è un'abitudine che proviene dalla programmazione ovviamente quindi cercate sempre di prenderla in modo che quando il file sarà molto popolato andrete a trovare tutti i vari parametri in maniera più semplice dato che saranno commentati in nome assistant il commento corrisponde al cancelletto cioè se mettete un cancelletto ad inizio della riga io ne ho messi di più ma solo per evidenziare il tutto diciamo se mettete un cancelletto home assistant non conterà quella riga quindi sarà come se fosse vuota per lui non conta niente andate a scrivere http due punti perché dovete sapere che l'addon dac dns oltre a andare a diciamo darvi la possibilità di accedere da un assistant da remoto quindi fuori dalla vostra rete wifi all'interno del pacchetto del componente aggiuntivo è incluso anche il certificato SSL quindi non entrerete più in http cosa che diciamo se connessi da internet risulterebbe abbastanza pericolosa non so se vi è mai capitato di andare su un sito web denominato http e il browser specialmente negli ultimi tempi vi avverte che questo sito potrebbe essere dannoso e potreste eventualmente scegliere di continuare comunque o comunque di rinunciare alla navigazione proprio perché http ormai è superato e si utilizza sempre con perlomeno una firma digitale che in questo caso è autocertificata la firma SSL la mette let's and script quindi riceverete un certificato let's and script che tendenzialmente andrebbe rinnovato ogni tre mesi ma non vi dovrete assolutamente preoccupare di questo perché con let's and script scusate con dac dns i certificati SSL li rinnova lui in automatico voi non vi accorgerete di nulla quindi sotto la voce http lasciate due spazi molto importante la sintassi aspettate che me l'ero copiato di qua per agevolarmi ecco qua allora molto importante la sintassi il primo comando è http non è un comando è una stringa diciamo http quello che è sotto http non deve essere allo stesso livello di http ma tendenzialmente il nome assistant tutto quello che è sotto è sempre spostato di due spazi poi vedremo più avanti con il progredire della programmazione cosa ci sono altre regole ovviamente da imparare ma comunque sappiate che in questo caso vuol dire che http sotto ha queste due sotto categorie che sono distanziate di due spazi quindi sono sotto http e cosa dicono queste due stringhe apparentemente strane dicono che la certificazione ssl e la chiave ssl sono nella cartella ssl che voi non vedrete perché diciamo dall'interfaccia grafica di home assistant non vi fa vedere le potrete vedere queste cartelle ssl questa cartella ssl solo se vi collegherete ad esempio tramite samba allora a quel punto vi farà vedere configurazione insomma ve lo feci vedere l'altra volta vi dà una serie di cartelle fra cui quelle che sono extra configurazione quindi che non vi fa vedere da interfaccia grafica ma che vi fa vedere eventualmente appunto da samba o ssh insomma tutte le connessioni esterne quindi le andiamo a dire che il certificato è in questa posizione quindi cartella ssl e corrisponde a questo file fullchain.pem mentre la chiave ssl è residente nella cartella ssl e si chiama privkey.pem quindi a questo punto andiamo a salvare e andiamo a riavviare home assistant noterete ovviamente che non sarà più possibile accedere con l'indirizzo ip in http questo perché questo perché noi abbiamo dato dei certificati ssl quindi al vostro riavvio se voi proverete ad entrare con http 2.192.168.1.80 non entrerete da nessuna parte vi darà una pagina sbarrata come dovrete fare per entrare il mio consiglio è quello di entrare sempre con il ddns anche all'interno della vostra rete tanto non vi cambia assolutamente niente per entrare dovrete digitare https due punti slash slash il vostro dominio dac dns quindi il vostro nome punto dac dns punto org due punti 81 23 e lo vedremo fra poco c'è anche la possibilità di entrare con l'indirizzo ip in rete locale ma a quel punto dovrete entrare in https il vostro browser vi darà un errore e vi darà che diciamo c'è un errore di certificato ma comunque vi farà accedere ugualmente quindi potrete accedere all'interno della vostra rete in https due punti slash slash il vostro indirizzo ip due punti 81 23 come vi dicevo prima vi darà un errore il browser ma comunque vi farà entrare cosa che non serve a niente ve lo sconsiglio entrate sempre e comunque con il vostro ddns quindi https due punti slash slash il vostro dominio punto dac dns punto org due punti 81 23 quindi una volta fatto questo andate a riavviare configurazioni impostazioni riavvia sei sicuro di volere riavviare home assistant? ok eccoci 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 qua una volta che ho cliccato su riavvia ovviamente non ho aspettato come negli altri casi che si ricaricasse home assistant perché a quell'indirizzo come vi spiegavo non avrei più ottenuto nulla non sarei più riuscita a raggiungere la mia istanza di home assistant quindi che cosa ho fatto? ho aperto una nuova pagina web sul browser e ho scritto https due punti slash slash in questo caso era test o ha blog caputo madonna che dominio che avevo scelto bruttissimo punto dac dns punto org due punti 81 23 e miracolosamente eccoci qua nella nuova pagina di home assistant ovviamente la prima volta chiederà username e password che saranno quelle che avrete scelto precedentemente in passato appena abbiamo creato home assistant insomma ricordatevi di spuntare la casella ricordami in modo che ogni volta che vi collegherete sarete direttamente loggati e non vi dovrete tutte le volte andare a inserire username e password e vi troverete in questa schermata qua allora vediamo un po' vi volevo far vedere due cosine innanzitutto questo è l'accesso che avviene da remoto come notate c'è la S dopo http quindi abbiamo certificati SSL in questo caso mi sto collegando dal mio computer quindi sono sempre nella mia stessa rete locale ma voi noterete che se proverete ad accedere al vostro home assistant dal browser del vostro telefono ad esempio connesso in 4G e non sotto la rete wifi oppure dall'applicazione ancora non avete sentito niente di applicazione ma ne parleremo poi ovviamente comunque vi basti sapere che per il momento se vi connettete da fuori la vostra rete con questo indirizzo qui allora accederete al vostro home assistant anche al di fuori della vostra rete ovviamente se andrete a connettervi con un computer diverso da quello che utilizzate abitudinariamente la pagina che vi si presenterà sarà quella di login alla quale dovrete inserire username e password per poter accedere all'interno della configurazione come vi dicevo prima è ancora possibile seppur con delle difficoltà andare ad accedere in maniera locale quindi se noi ad esempio apriamo una nuova pagina e HTTPS a questo punto anche se entriamo in locale 192.168.1.80 nel mio caso ma voi ovviamente dovreste mettere il vostro indirizzo IP 81.23 ecco qua io avevo già fatto un accesso prima di test però come notate vi dice che questo sito non è sicuro perché non ha la certificazione HTTPS infatti notate che è sbarrato di rosso ciò vuol dire che vi darà un errore di certificato io avevo cliccato procedi comunque quindi sono già arrivato a questa pagina però la prima volta che vi collegherete nella vostra rete a questo indirizzo noterete che vi darà un errore di certificato e se volete potrete proseguire ovviamente se proverete a scrivere questo indirizzo esternamente dalla vostra rete quindi ne so dallo smartphone in 4G non raggiungerete niente perché andate a puntare all'indirizzo IP locale della macchina che a quel punto non è più raggiungibile anzi non è mai stato raggiungibile da fuori la vostra rete quindi torniamo di qua questa pagina la possiamo chiudere tranquillamente ho registrato un pochino troppo piccolo lo schermo si vede un po' mi devo un po' spostare allora una cosa molto importante andiamo a creare un bel backup configurazioni componenti aggiuntivi lo troveremo sempre nella stessa pagina dei componenti aggiuntivi come notate adesso DAC DNS è presente fra i componenti aggiuntivi cliccate la voce backup e successivamente crea il backup potrete dare eventualmente un nome potete fare un backup parziale magari escludendo qualche componente che non vi interessa ma io vi consiglio di fare sempre un backup completo della macchina scusate dell'installazione di Home Assistant non della macchina la confusione proviene dal fatto che sono abituato a fare il backup della macchina virtuale totale quindi tutta la macchina virtuale che è all'interno di Proxmox ma questo è un discorso che ancora non vi interessa quindi cliccate su crea e mi va a creare il backup non è molto grande perché fondamentalmente su questo Home Assistant non c'è niente quindi ha fatto molto velocemente se avrete una configurazione piuttosto complessa passerà qualche minuto prima che il backup sarà disponibile bene questo backup cliccandoci sopra sarà possibile ripristinarlo quindi se premerete sul restore vi andrà a riportare Home Assistant allo stato attuale del backup che in questo caso è lo stesso che è attuale perché l'ho fatto ora ma potrete anche cliccare i tre puntini a destra e cancellare il backup oppure scaricarlo sul vostro pc molto utile nel caso che magari che ne so esplode il raspberry si rompe la micro sd cosa che poi magari vi consiglio eventualmente se proprio avete intenzione di tenere il raspberry di sostituirlo con un ssd ma anche questo magari lo vedremo più avanti e qualsiasi cosa insomma avrete intenzione vi accadrà voi potrete installare nuovamente una nuova installazione di Home Assistant e al momento di creare l'account lui vi chiederà se volete utilizzare un backup e a quel punto cliccherete appunto quella voce e caricherete il backup che avrete precedentemente scaricato e magari tenuto in memoria sul vostro pc vi esplode il pc vi dimenticate di scaricare il backup sul vostro computer in quel momento si rompe la sd oltre che andare all'URD c'è un'ulteriore possibilità che vedremo nella prossima videoguida ovvero l'automatizzazione dei backup su google drive quindi sarà possibile che Home Assistant si ricordi ogni giorno ad una data o una o più volte al giorno ad un orario prestabilito che stabiliremo noi ovviamente nella configurazione del componente aggiuntivo farà un backup della macchina e in automatico lo caricherà su google drive direte voi si ho capito ma dopo 6.000 anni avrò google drive pieno e dovrò piangere sangue per pagare l'abbonamento a google one cosa che ormai hanno fatto hanno unito tutte le loro piattaforme in questo google one ma comunque a parte bagionate non è vero perché ovviamente il backup su google drive lo farà si in automatico ma potete scegliere quanti backup mantenere su google drive e anche su home assistant quindi ad esempio se deciderete di tenere 4 backup lui andrà a cancellare ogni giorno quello più vecchio quindi via via ve ne terrà sempre 4 su google drive e anche 4 o più a seconda di quanti ne volete conservare su home assistant direttamente e anche in quel caso andrà a cancellare sempre il backup più vecchio bene amici anche per oggi siamo arrivati al capolinea vi ricordo di seguirci sui nostri canali all'indirizzo www.vincenzocaputo.com troverete il nostro blog ovviamente e anche su youtube siamo presenti questo video ovviamente è su youtube ricordatevi di spuntare la campanella in modo da essere notificati ogni volta che pubblichiamo un video nuovo e ci vediamo la settimana prossima sempre con un video riguardante il mondo della domotica home assistant tutte varie guide che permetteranno di diventare sempre più bravi con questo hub domestico